Questi sono gli attrezzi che sono stati utilizzati per lo scasso. Sono stati colti in flagrante dagli agenti della squadra mobile della polizia di Pesaro mentre rubavano dalle automobili marcate BMW, componentistiche, elettroniche e strutturale. È accaduto a Pesaro lo scorso 11 novembre e di colpevoli sono risultati due cittadini moldavidi rispettivamente 26 e 21 anni, in Italia senza fissa dimora ma gravitanti da qualche mese a Pesaro. I ladri attivi dallo scorso settembre ed ormai esperti avevano appena portato a termine 5 furti sempre con lo stesso modus operandi, sottraendo nel giro di pochi minuti grazie ad utensili particolari quali trapani e cutters, pezzi di automobili quali volanti, navigatori satellitari e computer di bordo. Sequestrati anche gli attrezzi utilizzati per compiere i furti. Loro avevano una particolare attrezzatura che permetteva di non far scattare gli allarmi delle auto ad esempio riuscivano con un particolare cutter che è qui presente riuscivano a rompere il vetro e grazie alle loro particolari abilità tecniche riuscivano a non far scattare appunto gli allarmi delle auto. I due, che sarebbero partiti a breve per la Moldavia, sono stati trovati ancora in possesso dell'area furtiva impacchettata e pronta per essere spedita all'estero e per essere venduta al mercato clandestino dei pezzi di ricambio per autovetture di alta gamma per un valore economico che ammonta a circa 8 o 10 mila euro. Le componenti rubate sono state sequestrate e saranno restituite ai legittimi proprietari. Questa diffusione di tali tipi di reati ci ha spinto a svolgere degli approfondimenti investigativi per poter giungere ai responsabili di tali tipi di reati. Soprattutto in un periodo particolare come questo dal punto di vista economico questo tipo di reati porta a reca alle vittime un danno di particolare entità pensiamo che si aggiri intorno agli 8 o 10 mila euro. Grazie agli approfondimenti investigativi siamo riusciti a restringere la rosa dei sospettati di tali tipi di reati e riuscire a intercettarli proprio nella notte dopo che avevano compiuto già ben 5 furti. E volevo sottolineare che questo si tratta di un brillante risultato operativo che è stato raggiunto grazie anche alla perfetta sinergia tra le forze di polizia e l'autorità giudiziaria. In mattinata si è tenuta l'udienza di convalida dei due arresti al termine della quale l'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto ed applicato ad entrambi la custodia cautelare in carcere.